Una giornata di lutto cittadino a Villa Franca per ricordare Ibrahim, il bambino di 10 anni, morto all'ospedale pediatrico a Puano lunedì sera dopo un malore accusato domenica nella piscina comunale di Villa Franca, lunigiana. La procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia per chiarire che cosa abbia provocato l'arresto cardiaco fatale. Intanto resta sotto sequestro l'impianto comunale gestito da una società esterna. I carabinieri della compagnia di Pontremoli lavorano per ricostruire la dinamica esatta della tragedia concentrandosi in particolare sul perché un gruppetto di bambini di appena 10 anni si è entrato nel complesso senza essere accompagnato da adulti. Ibrahim si era già sentito male dopo un primo tuffo nella vasca olimpica nonostante avesse accusato dolori addominali poco dopo è rientrato in acqua. Sembra che si sia sentito male che abbia vomitato poi è ritornato dentro l'acqua e si è sentito male ma non ha fatto né tuffo né niente. Sono stati proprio gli amici a tirarlo su a bordo vasca dopo averlo visto sott'acqua. L'autopsia farà più luce su un altro decesso in piscina, il terzo dopo Sofia e il piccolo Tommaso in pochi giorni. Terminate le indagini la salma di Ibrahim volerà in Marocco per la sepoltura.